Ciao, nuovo video qui da Tokyo, ora mi trovo a Otemachi e sono andato all'interno del parco dove si trova il palazzo imperiale. Sto facendo un giro qui all'interno del parco alla ricerca del palazzo, parlo a bassa voce perché c'è silenzio, ci sono tante persone qui attorno a me. Nel frattempo, mentre sono alla ricerca, vi faccio un'altra cosa, adesso io sono già entrato, sono in un altro punto, sono in una posizione alta del parco e ora vi faccio vedere il panorama che si vede da qui. Preparatemi, guardate. Questa è una balconata, oltre non si può andare. Lì c'è un'altra entrata, quella è un'altra entrata. E lì dietro, tutti i palazzi della zona di Otemachi. Guardate qui, che bello. Molto bello. e vi faccio vedere. Vi metto in un punto, tipo qua, i grandi palazzi di Otemachi all'interno del parco, dove si trova il palazzo imperiale, che devo ancora trovare. Molto bello. Da notare il prato tagliato benissimo, quindi raso raso raso. Guardate il prato com'è. È tutto così qui. È tutto tagliato così. Adesso scengo sotto. Questa è l'area che vi diceva la balconata. Ci sono delle persone. Ora scengo sotto. Vi faccio vedere un po' giù com'è. Sì, sì. Sì, scendo. Un attimo che vi faccio vedere sotto eh. Vuoi più tardi scendi tra 20 minuti? Scegli tra 20 minuti, devo risalire. 10 minuti? Eh sì, tanto devi scendere per forza. Qua è chiuso. Sì, sì. Sì, sì. E qui scengo. Ho avvisato degli amici. Sì, sì. 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 Faccio vedere qua qui. Il grande parco. Qui c'è una cappina. Questo parco. Sì. 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 Con il vento spero che possa sentire bene e con il vento so che ci sento male i video. qui c'è questa struttura. Non so cosa sia. Non è un tempio. Ci sono anche dei tempi qui. All'interno del parco dove c'è il Palazzo Imperiale che andrò alla ricerca tra poco. Continuerà la mia ricerca. E' ben curato il palco. Qua c'è tanta polizia in Cina. E' visto. Questa sono le mura dove sono salito prima dove c'è la balconata. E' pieno di giapponesi che si fanno i loro giri qui. E ci sono tanti turisti. Beh, non male perché questo è un punto turistico. E dopo andrò da quella parte e vediamo cosa trovo. Non sono mai venuto qua. L'anno scorso avevo visto il Parco di Ueno. Ma qui questo sembra essere più interessante. Ovviamente c'era il palazzo. C'è, c'è ancora il Palazzo Imperiale. Quindi mentre Ueno ce lo so. Allora, di là non posso andare. Questa è una delle entrate. Vediamo come si può andare. C'è il biglietto. Quando siamo entrati c'è una biglietteria. Noi pensavamo che si pagasse invece una roba che danno un ticket. Che penso serva loro per contare quante persone entrano. Allora, di qua non posso andare. Peccato. Se no mi è stato fatto un giro. Però le bici queste vanno. Vabbè. Magari c'è qualcuno che non viene a frega niente. Ma... Va bene. Interrompo il video che così mi sposto dopo vado da un'altra parte. ci vediamo qui a Otemachi in Tokyo all'interno del parco alla ricerca del Palazzo Imperiale. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Ciao ciao. Ciao ciao.